Centro per accompagnare e sostenere lo sviluppo scientifico e tecnologico dell'Università di Cagliari del territorio. Mario Tasca. È nato Cesar, il centro servizi d'Ateneo per la ricerca che ha sede presso la cittadella universitaria di Monserrato, una struttura che si basa su una concezione multidisciplinare dell'approccio scientifico. Punto d'incontro per ricercatori e scienziati. Il taglio del nastro da parte del rettore Maria Del Zompo e della direttrice Roberta Vanni, con il presidente della regione Francesco Pigliaru. È un centro che racchiude in sé moltissime attrezzature che tipicamente stavano in laboratori singoli, quindi la modernità di questa struttura sta proprio nel fatto che mette insieme strumentazioni di discipline diverse perché ormai la ricerca moderna è una ricerca che non è più tanto interdisciplinare quanto multidisciplinare. Il progetto nasce nel 2009 sotto la giunta Cappellacci, mettendo insieme laboratori e strumenti di diverse discipline. L'intervento è stato reso possibile grazie alla disponibilità di un finanziamento con fondi europei e così come gli studi che ospita la struttura è stata realizzata con soluzioni tecniche all'avanguardia che hanno affiancato al cemento armato normale e a quello prefabbricato l'impiego strutturale di componenti in legno. Ricercatori di chimica, biologia, fisica e medicina lavoreranno insieme con le migliori tecnologie attualmente disponibili. Un centro di ricerca che permette di avere strumentazioni di altissima qualità molto costose che permetteranno prodotti, pubblicazioni e brevetti di altissimo valore che possono essere fatti solo se ci si mette insieme, se si fa sinergia. Per cui è un cambio di mentalità il Cesar importante che l'Università degli Studi di Cagliari ha accettato e che la Regione ha accettato di finanziare ai tempi di la Spisa e di Capellacci. Sono loro che hanno iniziato il percorso. Al momento il Cesar è dotato di cinque tecnici, tre dei quali sono tecnici esperti di biologia cellulare, chimica e fisica e di personale amministrativo, ma si svilupperà sia con nuovi servizi che con nuove strumentazioni e personale.